e quindi ripartiamo appunto con qualche esempio pratico di applicazione dei cicli seguendo un pochino quelli che sono i suggerimenti che ci vengono dati qua negli argomenti proposti sulle slide il primo ragionamento che facciamo, il primo esercizio che facciamo è sui cosiddetti valori sentinella un pochino l'abbiamo già visto quando parlavamo della variabile ok in cui c'erano dei dati in ingresso che non erano veramente dati ma erano indicatori di qualche cosa da trattare in modo particolare da trattare quello zero che non era allora immaginiamo di fare un esercizio molto semplice non guardiamo il codice e ce lo costruiamo noi stessi lavorandoci direttamente l'esercizio che vogliamo fare è inserire dei numeri facendo la somma di tali numeri che vengono inseriti e andando avanti finché non viene inserito un valore particolare un valore speciale che indichi la fine dei numeri inseriti cioè praticamente stiamo cercando di risolvere il problema che dice fai la somma di una certa sequenza di numeri inseriti dall'utente ma io non so a priori quanti numeri vorrà inserire l'utente quindi leggo finché me ne da però l'utente dovrà avere un modo per dirmi non ce ne sono più sono finiti era un po' se vi ricordate i primi flowchart che abbiamo fatto il problema del fioraio devo vendere i fiori però a un certo punto devo sapere quando è l'ultimo che ho venduto e quindi in qualche modo lui deve dirmelo inserendo un valore particolare per indicarmi che ha venduto quell'ultimo fiore quindi proviamo a ragionarlo da zero prendiamo un piccolo failetto in cui diciamo così somma numeri in cui il nostro obiettivo sarà acquisire una serie di dati di numeri reali dall'utente e stampare ad esempio la cosa più semplice la somma di essi e volendo anche di valore medio se vogliamo se vogliamo non si sa a priori quanti dati verranno inseriti e poi dovrei quindi dobbiamo anche risolvere il problema appunto come facciamo a a sapere quanti dati vengono inseriti quando l'utente ha terminato di inserire i dati allora cominciamo con la parte più semplice l'utente cioè dobbiamo fare acquisire un certo numero di dati e farne la somma quindi noi possiamo avere un ciclo che nel suo cuore acquisisce un dato e aggiorna una somma quindi sarà una cosa del tipo legge un dato quindi dato uguale float input dato e avrò totale uguale più dato questo poi alla fine è il cuore dopodiché possiamo anche avere una variabile count così ci ricordiamo quanti dati stiamo leggendo questo è il nucleo che va ripetuto questo è il corpo del nostro ciclo leggo un dato aggiorno un totale aggiorno il conteggio dei dati perché il conteggio mi servirà per fare la media e itero quindi questo blocco qui lo devo ripetere tante volte quanti sono i dati inseriti dall'utente while while ci sono ancora dati due punti ci sono ancora dati due punti e questo lo ripeto finché ci sono ancora dati chiaramente la difficoltà è questo ci sono ancora dati che non abbiamo ancora deciso come funzionerà mettiamolo in sospeso per un attimo chiudiamo solamente le problematiche di questo ciclo qui abbiamo una variabile totale una variabile count che sono aggiornate dentro il ciclo e quindi devono essere inizializzate prima vabbè questo è facile totale uguale a 0.0 count uguale a 0 e fin qua esattamente ciò che facevamo prima e alla fine dobbiamo stampare il totale quindi print possiamo print il totale vale totale qui uso sempre l'f string per velocità e poi se count è maggiore di 0 stamperò anche la media f la media vale totale su count ho dovuto mettere if count maggiore di 0 perché se count fosse uguale a 0 questa divisione chiaramente darebbe un errore quindi potrebbe darsi che l'utente non inserisca nessun dato allora il totale vale 0 se ne inserisca 0 dati ma la media non è definita non è definibile con 0 elementi ok adesso il punto è come faccio a sapere se l'utente vuole ancora inserire dei dati oppure no ci sono vari metodi il metodo più semplice è avere un dato speciale un dato non valido che mi indichi che l'utente ha finito di inserire i dati quale può essere questo dato non valido e non lo so dipende da quali sono i reali dati che dobbiamo inserire se questi dati fossero che ne so delle temperature diciamo così ambientali probabilmente un dato di meno 100 non sarebbe credibile un dato di più 1000 non sarebbe credibile allora possiamo identificare dei valori particolari e quelli che sono chiamati valori sentinella che non sono da interpretare come dati normali ma sono da interpretare come segnali segnali per identificare un evento identificare una condizione particolare però questo ovviamente dobbiamo saper distinguere conoscere quali sono i dati validi rispetto a quali sono i dati anomali e quindi che decidiamo di interpretarli come sentinelle allora noi possiamo pensare che poiché stiamo facendo una somma di dati il valore 0 non abbia senso inserirlo forse oppure che questi dati siano positivi dobbiamo chiaramente specificarlo nel testo quindi possiamo diciamo così specifichiamo che si assuma che i dati da inserire siano tutti maggiore o uguale 0 e quindi un valore negativo inserito identifica il termine dell'inserimento inserimento dei dati da parte dell'utente cioè quando l'utente inserisce un numero negativo non significa che vuole fare la media o la somma di quel numero negativo ma significa che vuole finire l'inserimento e quindi in questa frase di input noi possiamo anche specificare l'utente diciamo così meno 1 per finire poi che lui inserisca meno 1 che inserisca meno 7 noi nel testo abbiamo detto un qualunque numero negativo me lo fa finire però gli do un suggerimento un pochino più semplice perché se gli dico mettimi un numero negativo lo dici ma quale andrà bene meno 0,7 meno 4 meno 100 diciamo meno 1 per dare un suggerimento e quindi noi sappiamo che se il dato letto che deve essere un float corretto è stato convertito in un float questo float vale meno 1 oppure un numero negativo abbiamo detto che accettiamo anche un numero negativo allora mi devo fermare quindi questo dato lo devo controllare dato minore di 0 allora in questo caso se il dato è minore di 0 vuol dire che valore sentinella vuol dire che l'utente vuole terminare l'inserimento dei dati altrimenti vado avanti con l'esecuzione normale quindi else caso normale e faccio il lavoro che dovrei fare normale quindi le operazioni che faccio nel caso normale le faccio rientrare quindi all'interno della colonna else come corpo dell'else di questa istruzione if quindi queste istruzioni le faccio ma le faccio solo se il dato è un dato normale e quindi lo accumulo nel totale e ne tengo conto nell'incremento nel contare il numero di valori che ho letto mentre invece nel caso del valore sentinella cosa devo fare devo terminare l'inserimento allora io qui so che voglio terminare l'inserimento ma per uscire del ciclo while devo dire qualche cosa nella riga 12 in quest'altro punto quindi un'informazione che ho qui devo trasportarla fino alla prossima volta in cui la condizione del while verrà valutata una condizione nota ad un certo punto viene usata sfruttata e necessaria in un punto diverso beh questo è il tipico caso in cui mi può far comodo avere una variabile flag in cui che posso chiamare fine la inizializzo una variabile fine la inizializzo falso e qua dentro la faccio diventare vera e quindi la mia condizione while ci sono ancora dati chiaramente la trasformo non si chiama ci sono ancora dati non lo posso scrivere ma while not fine siamo usati una tattica una tattica simile a quella che abbiamo usato con quella catena di if per analizzare le string vi ricordate le date ho un flag che metto a vero metto a falso e poi più avanti lo vado lo vado a interrogare quindi la condizione di ingresso la prima iterazione viene fatta sì o no sì viene fatta perché fine è inizializzato a falso not fine contrario di falso è vero quindi sarà vero alla prima iterazione entro effettivamente nel ciclo while poi se il dato un qualunque dato inserito è minore di zero fine viene messo a true queste istruzioni non vengono eseguite perché sono in un else e se il dato era zero e se ho eseguito il ramo if non eseguirò il ramo else torna su e mi troverò fine messo a true vuol dire l'utente vuole finire e quindi not fine diventa falso perché fine è true ed esco e stampo i totali se invece il dato inserito non è negativo quindi forse un dato positivo è un dato normale questa istruzione non viene eseguita eseguo queste istruzioni la variabile fine non la sto toccando vedete che non la tocco più era falso rimane falso va bene non c'è problema e quindi poiché rimane falsa questo ciclo continua ad eseguirsi allora proviamo a vedarlo funzionare e poi rispondiamo alle domande allora eseguiamolo inserisco un dato inserisco c3 inserisco 2 inserisco 1 inserisco meno 1 quindi in teoria mi aspetterei che questa cosa mi stampasse la somma è 6 e la media è 2 mi è andata bene la so il totale vale 6 e la media vale 2 adesso vediamo i vostri dubbi Antonio mi dice così facendo non posso inserire i numeri negativi sì è l'assunzione che abbiamo fatto alla riga 5 ho detto questo programma funziona solo se i dati da inserire sono tutti positivi e quindi ho sull'insieme dei numeri float alcuni numeri che escludo a priori e li posso usare come valori sentinella torniamo tra un attimo su che cosa fare se invece non avessi questo lusso di poter dire i numeri sono solo positivi dovremmo giocare sulle stringhe uscire dai numeri reali Christian mi dice lo 0 potrei usare come sentinella perché tanto in una somma non mi cambia il totale è vero nella somma no ma nella media sì quindi lo 0 è un dato che non cambia il totale ma cambia la media e quindi se potrei considerarlo come dato ancora valido perché di fatto poi mi abbassa la media rispetto ai numeri positivi ovviamente ho ragione io e ho ragione tu cioè lo 0 è valido o non è valido dipende da quale sia il problema vero che stiamo risolvendo qui stiamo risolvendo un problema astratto sintetico quindi però se io ho detto che i dati da inserire sono tutti maggiori uguali a 0 allora lo 0 lo devo considerare come dato valido perché l'ho scritto qui è un'assunzione che faccio io tu puoi dire ma io faccio l'assunzione che i dati siano positivi va bene e allora un'altra assunzione che se diciamo così le specifiche del problema che hai ricevuto sono compatibili con l'assunzione che fai va benissimo perché chiaramente poi da lì in poi il programma ne terrà conto nel while corrado non potrei inserire dato uguale uguale meno 1 per farlo terminare quindi questo qui al posto di dato minore di 0 voi mi suggerite scriviamo dato uguale meno 1 uguale meno 1 sì allora scrivere dato uguale meno 1 è anche se vogliamo più coerente rispetto a ciò che ho scritto qua anche qua è una questione di scelta io posso dire il valore sentinella è esattamente meno 1 oppure il valore sentinella sono tutti i valori negativi ad esempio meno 1 e io questo esempio glielo ho messo quattro parentesi e giustamente come dice Antonio ma anche meno 2 me lo fa finire sì io ho scelto che tutti i numeri negativi me lo facessero finire non vi piace questa scelta preferite essere precisi devi per forza inserire meno 1 va benissimo mettete quest'altra versione l'importante è essere chiari su che cosa fa il programma a volte ci viene già detto a volte non ci viene detto esplicitamente ce lo dobbiamo dire da soli dobbiamo noi fare delle scelte quali sono i valori sentinella io ho deciso questo me lo sono scritto io un valore negativo qualunque identifica il termine dell'inserimento dei dati quindi per me qualunque numero negativo è una sentinella che indica la fine dell'inserimento dei dati l'ho scelto io voi scegliete diversamente va bene lo stesso ok quindi le assunzioni si possono sempre fare se sono compatibili ovviamente con la consegna che era arrivata all'inizio la consegna era questa non diceva nulla sui valori e quindi ho dovuto fare delle scelte poi dunque Capriere mi dice non si potrebbe scrivere while fine anziché while not fine e no sarebbe il contrario cioè io se scrivessi while fine questo ciclo non verrebbe mai eseguito perché fine viene inizializzato a falso e quindi while falso la condizione viene trovata falsa già all'inizio della prima iterazione e quindi questo corpo non viene mai eseguito neppure una volta while not fine invece viene esegue il ciclo se fine è falso e non lo esegue se fine è vero se vi trovate male con questo modo di ragionare potete invertire la variabile non la chiamerei più fine ma la chiamerei continua uguale true e allora qua scriverei while continua quindi parto con una variabile che chiamo continua la inizializzo true e se mi arriva la sentinella la metto false è la stessa cosa ho una variabile che mi dice se devo continuare allora sa why continua oppure una variabile che mi dice se devo finire why not fine quindi sono anche qua sono alternative altrettanto legittime io le lascio come commenti che sono tutte modi diversi di pensare alla stessa cosa quindi questo qua lo commento e questo rimetto not fine ok Alessio mi dice l'unico modo che ho per ottenere un risultato per ottenere un risultato quindi per arrivare alla print finale immagino è quello di inserire un numero negativo sì in questo programma io non ti sto stampando i risultati intermedi ci sto stampando solamente il totale dopo che tu mi hai detto non ci sono più numeri nuovi e quindi fai conto con questo Corrado mi dice ok Corrado mi dice lui vorrebbe inserire la condizione tipo dato uguale a meno 1 oppure o oppure meno di 0 direttamente in questa condizione qua allora questo ha due problemi si può fare con un po' di aggiustamenti però cerchiamo di capire i problemi il primo problema l'ha già scritto lui in chat dice però se facessi così cosa succede che questo test qui non mi serve questa parte questo IFES non mi serve acquisisco il dato e poi se il dato che ho letto nell'iterazione precedente era meno 1 mi fermo non farò più iterazioni future quindi di fatto questo dato qua che ho letto se vale meno 1 all'iterazione successiva torna su lo trova uguale a meno 1 e dice ok è meno 1 e quindi mi fermo ed esco il problema qual è il problema numero 1 che queste istruzioni in questo caso verrebbero eseguite comunque verrebbero eseguite comunque e quindi sommerei al totale il valore di meno 1 e lo conterei come se fosse un dato valido verrebbero eseguite comunque se tutto questo IFE venisse cancellato perché non serve più a questo punto per far sì che non vengano eseguite e questo meno 1 non deve essere contato come dato puzza un po' non va bene allora sarebbe opportuno rimettere lasciare questa IF però a questo punto se lascio questa IF controllo una condizione poi subito dopo la ricontrollo alla stessa condizione faccio due volte il stesso lavoro mi piace di più la soluzione col flag che è più esplicita che è più esplicita perché vi faccio vedere che il controllo è esattamente qui e il flag mi salda una situazione che poi userò per decidere di bloccare il ciclo quindi questo è un primo problema all'interno del ciclo il secondo problema è che se mettessi dato uguale 1 questo dato diventa una variabile di controllo del ciclo e dovrò ovviamente ricordarmi di inizializzarlo a un certo valore iniziale questo valore non verrebbe mai usato nei conti perché in realtà questo valore se io metto qua un qualunque numero subito dopo purché sia diverso da meno 1 subito dopo questo numero viene sovrascritto dal valore inserito dall'utente quindi devo inizializzare una variabile a un valore fittizio che mi serve solo per poter entrare nel ciclo si può fare le variabili sono nostre e nessuno ci vieta di di giarle come vogliamo però un pochino forse meno leggibile questo dato ovviamente qualunque valore qualunque valore valore diverso da meno 1 mi fa entrare nel ciclo quindi se vogliamo un po' una sentinella al contrario un valore finto che mi permette di iniziare l'esecuzione poi ci sono i valori veri e poi ci sarà la sentinella meno 1 che mi fa uscire in alcuni casi chiaramente si adotta anche una strategia di questo genere l'importante è chiaramente visto che ho una condizione che verrà testata prima di leggere il dato vero allora deve essere inizializzato in qualche modo ok vediamo un po' altri commenti vostri allora lo rimettiamo a posto quindi questa cosa qui lasciamola come commento è chiaro che se uno vede questo codice che poi adesso vi pubblico con tutti i commenti messi dentro non capisce nulla se non ha seguito diciamo così gli esempi che abbiamo fatto quindi questo qua lo possiamo lasciare anche così come alternativa e io ritorno alla mia versione not fine che è quella alla fine mi pare più semplice nessuna delle altre versioni è sbagliata quella col continua vero quella col dato uguale meno 1 facendo attenzione però ovviamente a questi casi particolari Fabio mi dice che la media gli dà un valore sbagliato però se non posso vedere o ci fai vedere il tuo codice oppure altrimenti è difficile capire il perché ok quindi se vuoi condividere il codice voi volentieri diamo un'occhiata insieme se no possiamo guardare a valle della lezione l'altra osservazione che avevamo lasciato in sospeso da prima su su Antonio che diceva devo inserire come faccio inserire i numeri negativi e Paolo più o tardi che dice devo usare in questo caso avrei una sentinella di tipo string quindi facciamo una 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 versione diversa copiamo questo file e vediamo se funziona incollarlo insomma numeri bis diciamo faccio una versione separata per non complicarlo troppo se non possiamo assumere nulla sui dati allora potremmo dire che l'utente se l'utente inserisce inserisce un asterisco l'inserimento termina ok allora in questo caso togliamo queste cose questi vari tentativi se siamo in un file diverso cosa significa? significa che come valore sentinella accettiamo un asterisco e non un numero questo forse è più pulito però cosa dobbiamo fare a questo punto? dobbiamo separare la lettura dalla conversione in float quindi abbiamo diciamo che il dato sarà uguale a questo input che è sotto forma di stringa ok dato è una stringa in questo caso a questo punto essendo una stringa lo vado a confrontare se dato con la stringa che contiene l'asterisco e allora in questo caso fine uguale true ed esco altrimenti posso fare questa operazione ma prima di ciò dovrò convertire il dato in float perché il dato per ora era sotto forma di stringa ok quindi questo float che prima veniva fatto direttamente contestualmente all'input e quindi poi lavoravo solamente con numeri reali e quindi la sentinella me la dovevo giocare come un numero reale in questo caso invece acquisisco l'input come stringa lo analizzo come stringa quindi la sentinella può essere tranquillamente una stringa e però quando devo poi farci dei calcoli ritmetici devo ricordarmi di convertirlo in questo caso nel caso normale quindi conterrà davvero un numero devo convertirlo effettivamente in float questo chiaramente ci risolve ogni problema di identificare dei numeri particolari perché la sentinella vive in un dominio separato che quello delle stringhe non è quello dei numeri reali proviamo a eseguirlo giusto per verificare che non abbiamo fatto stupidaggini 3 3 7 asterisco la somma è 13 3 più 3 6 6 7 13 13 diviso 3 farà 4 sì sembra giusto ok allora tutti coloro che dicono che la media gli viene sbagliata siano meno timidi e uscite il codice come si dice quindi non è un problema guardiamo il codice non c'è da vergognarsi di aver fatto degli errori perché gli errori in realtà sono quelli che ci aiutano a capire come evitarli in futuro quindi anche se il codice ad esempio questo qui vediamo se volete io lo inserisco qua poi questo ovviamente essendo roba vostra più uno poi non lo condivido questo è il vostro codice che mi dite che dà una media errata allora l'errore è qua forse sì sicuramente c'è un errore qui perché questo count uguale count più uno è indentato male e come vedete essendo indentato non sotto l'else ma sotto il while viene eseguito in entrambi i casi viene eseguito anche quando dato è minore di zero allora il count vale sempre uno in più uno in più di quanto dovrebbe quindi io vi dico che è come se dividere anziché dividere per n sto dividendo per n più uno perché anche quando inserisco la sentinella il totale non lo aggiorno ma il conteggio sì ok quindi in questo caso se vogliamo sono gli spazi di troppo che se io inserisco lo vedete subito inserisco uno meno uno e mi dice che il totale vale uno ma la media vale un mezzo perché chiaramente il denominatore è aumentato di uno ok non date mai la colpa al computer ok ah sì ma sta arrotondando male sì ma naturalmente attenzione che sono sull'ottava cifra sulla decima cifra decimale non su valori macroscopicamente evidentemente errati ok quindi questo doppio doppio gioco alla fine prendiamo un dato e lo interpretiamo in due modi diversi o con questo contorsione diciamo di data della sentinella è un valore speciale o un insieme di valori speciali oppure appunto avendo un insieme di dati più ampi di input alcuni dei quali sono in realtà dei comandi tipo ho finito l'asterisco e altri invece sono dei dati veri che poi vengono elaborati e questo diciamo tutto questo tipo di elaborazione va sotto il nome appunto di sentinella qui viene usato con esempi leggermente diversi ma alla fine la sostanza è esattamente la stessa qui lo trovate sulle slide volevo solo ecco commentare invece questo questo punto in cui noi abbiamo evitato il problema usando una variabile flag però come discutevamo prima si poteva mettere anche direttamente nella condizione il fatto che il valore inserito è diverso dalla sentinella e allora in questo caso avevamo inizializzato quel valore a qualche cosa che mi permettesse di entrare nel ciclo quindi alla fine abbiamo proviamo a fare il codice pulito abbiamo due due versioni quindi questa che ho chiamato somma numeri e la chiamiamo la somma numeri con la flag quella che usa una variabile flag così la teniamo pulita togliamo ciò che non c'entra while continua ci potrebbe stare il discorso del dato ci può stare questa è la versione pura con i flag che è un pochino più complessa all'inizio perché deve gestire questi flag ma alla fine tra le varie versioni che stiamo guardando è la più pulita la più semplice l'altra variante che è quella che è seguita sulle slide e sul libro e che abbiamo visto anche noi insieme non fa uso nessun flag ma direttamente controlla un valore quindi dato supponiamo che sia dato uguale a meno uno e questa è la condizione di uscita quindi dato finché il dato è diverso da meno uno leggo il dato e vado avanti quindi se il dato qui sotto non scriverò dato uguale a meno uno perché non ho nulla da fare qui e quindi dirò che se il dato è diverso da uno faccio l'elaborazione allora questa è l'altra versione che non usa un flag ma usa sempre un valore sentinella in questo caso di meno uno l'elaborazione nel caso normale viene fatta solo se il dato non è la sentinella e questo per evitare che il totale che il meno uno venga sommato al totale e poi viene testato nella condizione del while questo fa sì che all'inizio debba mettere come dicevamo un dato qualunque diverso da meno uno infatti se lo dobbiamo inizializzare ha un valore che tanto non serve a nulla se non per farmi entrare nel ciclo while lo so possiamo mettere 0 688 sembra strano purché sia diverso da meno uno quindi anche questo funziona esattamente nello stesso modo è un po' brutto la slide sta dicendo io devo inizializzare una variabile a un valore finto fittizio inutile perché mi serve per entrare nel ciclo while e è quello che abbiamo fatto qua a qualcuno non piace questo perché è un valore arbitrario poco leggibile poco comprensibile e allora si può pensare di riorganizzare anche un po' il diagramma di flusso di questa operazione cioè in fin dei conti a che cosa mi serve questa istruzione mi serve per obbligarmi a fare questo input almeno una volta poi farò i vari conti ma se io questo input visto che lo devo comunque sempre fare almeno una volta anziché complicarmi la vita per entrare in un while e farlo potrei farlo direttamente prima del while fuori e allora non bisogna di inizializzare a un valore strano allora per fare questo ragionamento mi faccio un'altra un'altra variante di questo di questo codice così ne abbiamo poi 27 non capiamo più quale incolla la chiamiamo la somma numeri ah trattino modificato è un po' generico ma siamo modificati quindi ciò che sto cercando di fare è evitare questa inizializzazione qui come mi dice la slide non piace perché c'è un valore arbitrario questa inizializzazione mi serve solo per obbligarmi a fare questo input ma un altro modo per essere sicuro di fare questo input è farla e basta se la faccio prima del while sono sicuro di farla non c'è nessuna condizione che mi condiziona il fatto di farla o no e se la faccio prima del while ovviamente il dato viene inizializzato con questo input e non serve nessuna inizializzazione farlocca ah guarda qui è più pulito leggo un dato subito dopo testo se il dato è diverso da meno uno perché se fosse meno uno esco e basta non entro neppure nel while e a questo punto questa if non mi serve più perché visto che la condizione della if è identica alla condizione del while è sicuro che se sono entrato dentro il while questa if mi dirà vero è la stessa condizione e se fosse falsa questa della if sarebbe già stata falsa quella del while e quindi non sarei neanche entrato nel while oppure sarei già uscito l'interazione precedente quindi anche questo non mi serve più via e quindi si semplifica parecchio sul primo dato attenzione che però così ho letto un dato solo perché la lettura del dato la lettura del dato viene fatto una sola volta prima del while quindi questo programma è sbagliato così così è sbagliato perché viene letto un dato se il dato è diverso da meno uno faccio il totale ho incremento la somma e poi ritorno al while dove leggerò di nuovo dove userò di nuovo lo stesso valore del dato senza averne letto uno nuovo e quindi di fatto sto girando all'infinito col primo numero col primo e unico numero che ho inserito e allora per evitare questo dopo che ho elaborato un dato leggo quello successivo allora questo qui lo vado a duplicare qua sotto lo incollo qua sotto quindi qui leggo il primo dato se è valido entro nel while lo elaboro attenzione lo elaboro solo se è valido attenzione come dice quello che dice Andrea se fosse il dato negativo minore di uno cioè uguale al valore sentinella io qua non ci arrivo mai non ho più bisogno della if ho già il while sopra che se quella condizione è falsa non entra assumendo il meno uno come sentinella altrimenti mettere il minore di zero come abbiamo fatto prima ma è indifferente elaboro il dato solo se è valido quindi solo se passa questa condizione che mi dice io sono un dato vero e non sono una sentinella e poi lo stampo cioè poi lo acquisisco il dato successivo quindi come ultima istruzione del ciclo while leggo il dato che mi servirà all'inizio dell'iterazione successiva quindi nella prima iterazione elaboro il dato che ho letto fuori e leggo il dato relativo alla seconda iterazione questo dato potrà essere un dato valido oppure una sentinella se è una sentinella esco subito dopo perché il while mi dirà non ripeto più se è un dato valido il while mi farà entrare mi farà elaborare il secondo dato qui e leggere il terzo qua sotto sono sempre sfalsato di uno vedete che l'ultima istruzione mi prepara già un dato che servirà nell'esecuzione successiva e quindi la prima iterazione ha bisogno che io leghi il dato a parte preventivamente a modo di inizializzazione quindi in questo caso si ripete due volte una lettura quindi pago duplicando un po' di codice però dall'altro canto è più semplice la logica perché non devo fare un'inizializzazione fittizia e non devo fare un doppio controllo dato diverso dal meno uno qua e dato diverso dal meno uno qua che sia chiaro tutte queste versioni sono tutte giuste sono tutte equivalenti nel senso che calcolano tutte la stessa cosa sono fatti in modo diverso seguendo ragionamenti diversi e in alcuni casi possono essere preferibili alcune altri casi possono essere preferibili altri l'importante è che noi ci sappiamo giostrare sappiamo adeguare il nostro ragionamento e poi tradurlo diciamo quelle discussioni che ci servono allora vediamo dedichiamo un attimo di tempo alle varie domande che sono comparse nel frattempo Emanuele mi dice l'ho fatto così sì è molto simile quello che abbiamo fatto noi l'unica differenza è che la I maggior di zero la somma è valida anche se fosse uguale a zero ma è un dettaglio se l'utente volesse inserire 50 caratteri diventa infinita per noi mi dice Simone no mi scherzavo quindi purtroppo non ho colto l'umorismo però è chiaro che se l'utente deve inserire 50 numeri dovrà inserirli lui è infinita per l'utente non è per noi programmatori nel caso inserissi meno 3 ad esempio il programma funzionerebbe lo stesso in questo caso non è meglio mettere minore o uguale di meno 1 allora qui non c'è nulla di meglio o di peggio nel senso che dipende tutto esattamente dalla specifiche che abbiamo qual è il valore che fa terminare il programma è meno 1 è qualunque numero negativo è qualunque numero negativo dispari qualunque numero negativo che sia una potenza del 27 decidiamolo e poi il programma dovrà fare così in questo caso il programma accetta solo il meno 1 come valore terminale sia questo programma che quest'altro quell'altro col flag avevamo deciso che qualunque numero negativo era interpretato come valore terminale sono scelte diverse tutte legittime l'importante è che sia chiaro è ben definito che cosa fa ok quindi è una cosa che sembra un po' strana di chiedere il dato prima del while ma a volte a volte si fa soprattutto bisogna ricordarsi di ecco l'altra cosa da ricordarsi ovviamente fondamentale è di leggere poi il dato in fondo che questa istruzione la mettiamo al fine di un ciclo ma stiamo già pensando nel ciclo successivo ok e poi che stiamo apprendendo il ciclo successivo tante volte ce la dimentichiamo perché ci sembra che in questa iterazione il lavoro l'abbiamo già finito e invece no però ricade sempre una solita regola generale come faccio di aggiornare le variabili in modo che la condizione del while diventi falso vabbè questo è quello che abbiamo appena visto poi sulle slide parla qua delle sentinelle che abbiamo già visto prima che per noi era la soluzione principale quindi siamo arrivati a una casistica di fronte a un solo problema siamo arrivati a una casistica e soluzioni varie in un ordine anche diverso dalle slide ma perché abbiamo seguito i nostri ragionamenti le nostre conversazioni ecco su questo questo percorso lo possiamo fare mille volte ci sono moltissime operazioni che richiedono l'uso di cicli alcuni li abbiamo già visti ma possiamo provare a dare un'occhiata insieme e magari fare quelli che non abbiamo ancora visto e che sono un po' meno ovvi la somma di valori l'abbiamo già fatta 6 milioni di volte riconosciamo in questo codice la versione con l'input fuori dal while ma è una è una delle possibili possiamo usare una qualunque delle altre in cui l'accumulo dentro una variabile totale è una serie di valori in questo caso questi valori vengono letti da una stringa di input e vedete che qua anche lui separa l'input come stringa la confronta con un valore sentinella che in questo caso lui ha scelto la stringa vuota quindi quando batto invio a vuoto senza scrivere nulla è una stringa vuota e quindi viene considerata come termine dell'inserimento dei dati un altro valore sentinella possibile sotto forma di stringa se non è una stringa vuota cerco di convertirlo in float e poi quindi lo accumulo faccio la somma e poiché ho fatto l'input prima del while la devo fare anche replicare come ultima istruzione quindi applichiamo l'ultima tecnica che abbiamo usato ma il cuore di tutto ecco distinguiamo il cuore dall'infrastruttura il cuore è questa istruzione qui sto facendo la somma il resto è meccanica per acquisire i dati e ripetere quell'operazione finché ci sono dati da inserire quindi sul resto non c'è da pensare non è nulla di specifico sull'algoritmo della somma semplicemente ripeto una serie di dati e poi cosa ci faccio su questi dati accumulo una somma la media è la stessa cosa semplicemente devo porre quello che abbiamo appena fatto faccio in parallelo la somma e un conteggio dei valori e se il conteggio è maggiore di zero stampo la media questo matematico avere uguale a zero matematicamente in realtà non ha senso perché se non ci sono dati la media non è definita non è che vaga a zero ma questo è identico a quello che abbiamo già fatto contare elementi ecco immaginiamo di avere una serie di dati e vogliamo sapere quanti di questi dati sono numeri negativi e quindi quanti saranno positivi quindi come posso fare posso fare comunque un conteggio ma un conteggio parziale quindi qui ho un contatore negatives che si incrementa ad ogni iterazione ma non a tutte le iterazioni solo a quelle iterazioni in cui il valore eletto sia minore di zero quindi a differenza del count che per sua natura per sua semantica si deve incrementare ad ogni iterazione qui lo incremento solamente in quelle iterazioni in cui c'è un valore che mi interessa ed è un valore di quelli di cui devo tenere traccia e poi come vedete quella che ho chiamato prima la meccanica è sempre la stessa while valore diverso alla sentinella leggo il valore leggo per la riga successiva eccetera eccetera il cuore però questa volta sono queste due istruzioni se il dato appena letto soddisfa una qualche condizione in questo caso il fatto di essere un numero negativo allora lo incremento e incrementarlo vuol dire l'ho inizializzato a zero ricordiamoci sempre ogni contatore ogni accumulatore all'inizio lo devo inizializzare perché altrimenti sta contando le patate non sta contando a partire da zero un altro tipo di quindi in questo caso ho dei numeri negativi e conto quanti ne ho incontrati ma supponiamo invece di chiederci ma c'è almeno un numero negativo nella mia sequenza di dati perché se c'è posso fermarmi perché mi interessava solamente sapere questo quindi leggo fino a quando non trovo un valore che corrisponda a una certa condizione in questo caso dice inserisci un valore che sia un valore positivo minore di 100 ad esempio e quindi il valore valido è un valore che è maggiore di zero e minore di 100 in questo caso ho trovato il valore che stavo cercando e non ho più bisogno di iterare quindi posso uscire subito da questa iterazione se invece non trovo quel valore valido un numero pari un numero compreso in intervallo un numero che ha una certa proprietà devo continuare a leggere numeri nuovi fino a quando non troverò un numero valido questo schema si basa essenzialmente su un flag è uguale se andate a vedere il codice alla struttura del flag fine uguale false che avevamo fatto prima qui si chiama validance che fine ma è la stessa cosa è un ciclo in cui ciclo finché non devo uscire e acquisisco dei dati quando trovo un dato di una certa prima l'avevamo chiamata la sentinella in questo caso si chiama un dato valido esco questa struttura è utilissima tutte le volte che vogliamo leggere un dato quando vogliamo leggere un dato dall'utente inserisci un numero minore di 100 ok se lui è simpatico e ti inserisce 200 cosa fai? se ti inserisci 200 gli dici senti per favore ti ho chiesto il minore di 100 reinseriscilo di nuovo quindi quando noi vogliamo acquisire un dato dall'utente permettendo all'utente di sbagliare in un certo senso nel senso che se lui sbaglia glielo segnalo e glielo richiedo nuovamente allora in questo caso vuol dire che l'istruzione di immissione facciamola nel codice così ce la facciamo più nostra leggi dato quindi questo è il tipico codice per lettura di un dato dall'utente controllando che sia nell'intervallo giusto qui che sia valido in un certo senso e quindi l'idea potrebbe essere esempio leggiamo un dato un dato intero tra 1 e 100 ok? quindi noi potremmo semplicemente scrivere dato uguale input scusate int di input di inserisci un numero tra 1 e 100 e finisce qua print e qui ci stiamo fidando che se dico all'utente di inserire un numero tra 1 e 100 lui mi inserisca 50 o 27 però è un po' una presa in giro perché se io inserisco 200 lui è contento lo stesso allora vorrei validare questo valore l'abbiamo fatto con le ore i minuti eccetera quando abbiamo fatto quell'esercizio delle ore dei minuti che le ore devono essere tra 0 e 24 anzi 23 e i minuti tra 0 e 59 l'unica cosa che potevamo fare se il dato era errato era di dirgli il dato errato e terminare il programma invece adesso che conosciamo i cicli possiamo dire beh visto che tu mi hai inserito un dato errato per favore inseriscilo nuovamente quindi questa che dovrebbe essere un'istruzione semplice noi la possiamo la dovremo ripetere più volte se l'utente ha sbagliato qualcosa e quindi per quello ci chiediamo se il dato è valido e iteriamo finché il dato non sia valido cioè finché il dato continua a non essere valido detto in italiano finché l'utente non ha inserito un dato valido lo leggo e lo ripeto in questo caso e allora a questo punto se dato minore di 1 or dato maggiore di 100 stampero dato errato ripeti e invece altrimenti valido uguale true ad esempio qui si può scrivere in tre modi diversi o quattro quindi ad esempio se inseriamo un numero tra 1 e 100 e scrivo 200 mi dirà questa if sarà vera perché ho scritto 200 che è maggiore di 100 e quindi mi stampa dato errato ripeti torna su senza aver modificato la variabile valido che era e rimane falsa e quindi mi chiede di ripetere se io scrivo meno 40 mi chiede ancora di ripetere fino a quando finalmente non inserisco 2 e può stampare il 2 ed andare avanti e quindi valido uguale true fa sì che questa while not valido si interrompa se per caso il vicegeronomo avessi messo valido uguale true qua sopra sarebbe sbagliato perché non entra proprio nel ciclo while quindi avremmo initializzato il valore la variabile di controllo al valore sbagliato oppure dobbiamo mettere un true qui togliere questo not e invertire e mettere un false qua sotto a questo punto non si chiamerebbe valido si chiamerebbe errore while errore while sbagliato insericilo questo è un modo potremmo anche modificare questa istruzione come abbiamo visto prima duplicando la input per evitarci questa inizializzazione volendo però poi ci sarebbe anche questo if da modificare perché il while deve tenere conto del valore di validità l'altra cosa che si potrebbe scrivere qui in questo caso ho scritto l'if diciamo che mi indica la condizione di errore potremmo anche scriverlo lo riscrivo sotto invertendo la condizione la condizione e scrivendo se il dato fosse maggiore o uguale a 1 and dato minore o uguale a 100 quindi la condizione di ok e quindi a questo punto scambio semplicemente i vari vero e falso ok quindi ho inverto la condizione e ovviamente scambio l'if con l'else e quale dei due è meglio dipende chiaramente da quanto è complicato se è più facile verificare la condizione di errore se è più facile invece verificare la condizione valida dipende da come ci troviamo tra l'altro questa condizione qua si può anche semplificare scrivendola con l'operatore concatenato che onestamente mi sembra anche più leggibile nel caso in cui cerchiamo di validare un dato all'interno di un intervallo ok però di nuovo sono equivalenti le due modalità di scrittura dipende quale incontriamo prima nel nostro aggiornamento Savio ci dice che dobbiamo verificare anche che l'input sia un dato numerico sì certo tutto dovrebbe verificare ci stavamo concentrando sulla valida numerica però se dovessimo verificare anche questo mi converrebbe lo scrivo sotto dovrei innanzitutto separare il dato prima trattarlo come stringa controllare if dato punto is numeric se non è numerico allora dirò il dato deve contenere dei numeri print deve essere numerico altrimenti vado a controllare altrimenti no else converto il dato in un intero e a questo punto faccio quello di prima quindi ho un controllo in più davanti attenzione con i vari else che si devono lidare bene così quindi faccio un controllo in più in quel caso stampo messaggio d'errore se ho passato questo primo controllo posso convertire il dato e allora a questo punto potrò controllare il valore numerico e solo se tutti gli ifs e tutte le condizioni effettivamente se tutti i possibili trappole non è numerico non è l'intervallo giusto eccetera eccetera se tutte queste trappole vengono superate finalmente evviva ho trovato un dato valido e poi posso andare avanti nel programma print allora mi dice Sabrina questa immagino che ti riferisca a questa print tu mi dici questa print dovrebbe essere sotto l'else perché così evitiamo di stampare dei dati sbagliati capisco il tuo ragionamento ma il problema è che quando ho un dato sbagliato io non ci arrivo mai a questa print perché sono intrappolato dentro il while questo while è una trappola che mi fa uscire solamente se ho un dato valido alla fine in qualunque forma in qualunque delle tre forme che abbiamo visto funzionano tutte in stesso modo esco dalla trappola solo se è valido altrimenti rimango lì per sempre possiamo invecchiare se uscire lì dentro se non inseriamo un dato valido ok quindi di nuovo distribuiamo il succo dalla meccanica il succo il cuore del ciclo è questa istruzione qua leggo un dato tutto il resto è la meccanica per ripetere la lettura e tenermi bloccato lì finché questo dato non superi una certa serie di criteri di validità che costruiamo con una catena di if else if flag che gestiamo una cosa che potreste fare andare a riprendere vi ricordate l'esercizio della settimana scorsa l'avevamo letto ore e minuti e fare in modo che quando si verifichi modificare quel programma in modo che quando si verifichi un errore una condizione errata torniamo su e chiediamo all'utente inseriscilo di nuovo perché è sbagliato inserisci di nuovo la stringa mentre allora dicevamo semplicemente è valido o non è valido i minuti sono questi adesso se non è valido te lo chiedo di nuovo là era molto complicato perché c'erano molte condizioni quindi ci sono questi flag da gestire e quando questo flag diventa non valido devo ripetere l'iterazione ok per rispondere a Gabriele sì vi metteremo ovviamente in condizione di avere un elenco di funzioni anche all'esame così come ce l'abbiamo adesso quando ci andiamo a cercare sul libro oppure su internet diciamo quello scopo principale del corso non è impararsi le funzioni della memoria ma imparare a gestirle in certo senso Alessio mi dice posso scrivere anche valido is not true è abbastanza antipatico scrivere while valido is true oppure while valido uguale uguale true no si può scrivere tecnicamente sono 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 possibili però poiché valido è già a sua volta un valore true o false chiedeci se valido è true è ridondante no è un po' come chiedersi cioè questo è già un valore booleano lui dentro dentro valido c'è già true oppure c'è già false quindi è inutile richiedere se true è uguale a true oppure se false non è uguale a true quindi in un certo senso è ridondante diciamo così per alcuni può essere più leggibile però è totalmente diciamo così inutile in un certo senso ok quindi normalmente non si vede il suggerimento è che se tu confronti qualcosa con true vuol dire che ciò che avevi ciò che stavi confrontando era già a sua volta un valore booleano che se era true allora può già essere usato direttamente lui come condizione del while o come condizione del leave Tommaso mi dice se l'utente risiede a un valore float il programma mi dà errore sì ti dà errore qua questo tipo di errore no scusate ti dà errore qua perché is numeric blocca il cifre frazionari solamente quest'ultima versione se tu lanci questo programma chiaramente questa versione ti dà un errore sulla int perché la int presuppone che la stringa che riceve sia un valido numero intero quindi sì in questo caso questo programma nel caso di un input floating point qua da errore e qua invece nell'ultima versione che è stata suggerita da uno di voi invece ti intrappola quindi te lo fa inserire una volta successiva come ho già detto più volte questo tipo di errore che saltano fuori durante le conversioni impareremo a gestirli molto tardi perché non si riescono a gestire semplicemente con delle if perché altrimenti avremo miliardi di if da fare a priori ma impareremo a gestire le cosiddette eccezioni verso l'ultimo argomento l'ultima settimana del corso ok vabbè il massimo e il minimo ve lo risparmio nel senso che anche qua il calcolo del massimo e il calcolo del minimo l'avevamo già fatto nei flowchart della prima settimana qui è semplicemente trattato in python dove ho ad ogni nuova iterazione il nuovo qua il corpo il cuore del ciclo sono queste due istruzioni se il valore che ho appena letto è maggiore del più grande valore che avevo letto finora allora il più grande che avevo letto finora non è più il più grande davvero e lo sostituisco con quello che ho appena letto quindi queste due istruzioni se il valore che ho appena letto è maggiore del massimo allora aggiorna il massimo e dagli il valore corrente è la logica per il calcolo del massimo ci fosse un minore sarebbe la logica per il calcolo del minimo minimo ok e in questo esempio lui fa vedere che prima del wide legge due dati perché chiaramente lui dice io non posso parlare di un massimo di un minimo se non ho almeno due dati da confrontare se ne ho uno solo non ci posso far nulla qui anziché leggere uno rischiare di leggere uno solo e poi dire alla fine non ho abbastanza dati lui ne legge subito direttamente due quindi questa è un'altra variante come vedete non abbiamo degli schemi fissi devi usare quel forza quello schema sono vari diciamo schemi flessibili e ogni volta si adattano a seconda di quello che il programmatore al mente in quel momento usa uno schema piuttosto che un altro ok quest'ultimo invece quest'ultimo esempio no che diciamo in questa sezione delle slide ci dà un pochino più da pensare eh confronto di valori consecutivi quindi ve lo lancio lì e poi magari ci pensate nei giorni eh prossimi visto che siamo prossimi al diciamo al termine della della lezione le due o tre domande a cui non riesco a rispondere adesso nella lezione eh se rimanete ancora online dopo che chiudiamo vi rispondo volentieri via cià ehm allora eh confronto di valori consecutivi cioè immaginiamo di leggere dei dati come sempre e chiederci se ci sono dei valori consecutivi uguali cioè l'utente inserisce uno sette quattro nove nove di nuovo e poi quattro due uno allora ci dobbiamo accorgere se un valore è uguale al valore che ho inserito prima questo è diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto finora perché finora prendevamo un valore poi magari insomma vamo al totale o facevamo operazioni del genere ma poi quel valore lì veniva perso veniva dimenticato non ci interessava più in questo caso io eh all'interno di un'interazione devo riuscire a confrontare un determinato valore che ho appena letto quindi l'input che ho appena letto eh col valore precedente cioè il valore che avevo letto al giro prima però attenzione che quando faccio value uguale eh conversione di intere della stringa letta il valore che un attimo prima di questa istruzione value era il valore vecchio proveniente dall'interazione precedente ma un attimo dopo diventa il valore nuovo quindi questa variabile value non potrà mai contenere due valori contemporaneamente quello vecchio e quello nuovo un attimo prima contiene solo quello vecchio però da solo non mi basta per fare il confronto per sapere se due numeri sono uguali e un attimo dopo conterrà solo quello nuovo allora per fare questo giochino mi serve una seconda variabile che qui ho chiamato previous cioè precedente che si ricorda qual era il valore nell'interazione precedente e ad ogni nuova iterazione quando sto per cambiare il valore mi salvo quello che prima c'era nella variabile previous e poi leggo quello nuovo quindi la variabile previous si salva il value che adesso qua in questa istruzione in realtà proverrà dalla fine dell'interazione precedente dentro value lo salvo dentro previous e a questo punto posso leggere il nuovo value quindi dentro value qua sotto avrò il valore nuovo che ho appena letto appena convertito e dentro previous avrò la coppia che mi sono fatto del valore che aveva value un attimo prima e in questo caso significa che ogni volta posso avere contemporaneamente la conoscenza dell'ultimo valore e del penultimo il penultimo l'ho salvato in previous li posso confrontare dico questi due sono uguali oppure non sono uguali quando passo l'interazione successiva questo value che ho appena letto andrà a sua volta dentro previous quindi l'ultimo diventa il penultimo il penultimo viene perso per sempre e ne leggo uno nuovo e sono pronto per leggere uno nuovo e quindi questa è una nuova logica come vi dicevo adesso ve la lancio così come diciamo come fine di lezione ci pensiamo la potremmo usare per fare analisi un pochino più complicate di diciamo di sequenze di dati adesso questa sottosomato è un caso semplice un dato con quello consecutivo però possiamo anche pensare se di chiederci se ci sono sequenze di numeri tutti uguali o sequenze di numeri tutti positivi o tutti negativi o sequenze di numeri crescenti o decrescenti questo è il tipo di esercizi che dobbiamo cominciare diciamo così a a a gestire con questi cicli andrea mi dice se manca un else nella riga finale no perché in questo caso quando trovo un numero duplicato semplicemente stampa questo messaggio ma poi continua a leggere i numeri ok non è che interrompe le letture quando trovo un numero duplicato e quindi quel numero viene comunque trattato comunque gestito e poi mi predispongo a leggere quello successivo quindi questa input va fatta in ogni caso sia che il numero sia duplicato sia che il numero sia nuovo sia diverso dagli altri Luigi mi chiede perché ci sono due input ci sono due input perché devo leggere il primo e il secondo dato per poter confrontare due dati consecutivi quindi io leggo un primo dato che diventa qui sotto diventerà il penultimo e leggo un secondo dato che diventerà l'ultimo scritto così onestamente non piace molto neanche a me nel senso che questo codice qua è preso dal libro ma non mi piace tanto perché qui controlla se questa stringa diciamo il secondo valore può essere una sentinella vuota mentre il primo invece no non mi lascia inserire un valore vuoto e quindi non mi piace neanche non piace neanche troppo a me il codice scritto così era molto compatto per carità però il motivo è che prima di fare questo confronto partiamo sempre dal cuore il resto è meccanica il cuore è questo controlliamo un valore col valore precedente prima di fare questa istruzione devo essere sicuro di avere almeno due valori quindi opzione uno ho letto questi due valori prima del ciclo opzione due ho un contatore per cui che mi conta le iterazioni e se sono nella prima iterazione questo controllo non lo faccio e lo faccio solamente dalla seconda in avanti è un'altra opzione ma la settimana prossima facendo esercizi magari abbiamo tempo anche di esplorare queste varie di queste varie opzioni ci sono domande dell'ultimo dell'ultimo minuto alessio non ho capito bene il senso di scrivere why not valido perché abbiamo detto che il ciclo continua quando la condizione non è falsa questo era nel qui no questo ciclo deve continuare quando il dato è sbagliato tutte le volte che il dato è sbagliato cicla è una trappola l'abbiamo chiamata trappola prima e quindi la condizione vera not valido vuol dire valido uguale falso la trappola è chiusa se valido se la condizione è vera la condizione è not valido e quindi not valido uguale vero corrisponde a valido uguale falso quindi se valido uguale falso sono intrappolato l'unico modo per uscire della trappola è mettere valido uguale vero per mettere valido uguale vero devo aver fatto passato tutti i controlli che devo fare mettere valido uguale vero rende not valido falso e fa uscire dal while questa è in sintesi di ragionamento anche qua anche su questi flag la tecnica di ntracing con la tabellina che iterazione dopo iterazione fa vedere i vari valori provate a usarla anche su casi semplici perché chiarisce un po come girano anche questo tipo di variabili soprattutto questa del valore col valore precedente fa capire abbastanza bene se uno prova a farlo a mano qual è questo meccanismo ok giovedì ci sarà un esercizio ci saranno degli esercizi ma come sapete sono sempre relativi agli argomenti della settimana precedente quindi saranno sui sui condizionali ma nel frattempo chiaramente potete cominciare diciamo così a a complicarvi la vita pensando anche a gestiti sui cicli ehm la settimana prossima oltre diciamo a completare eh non 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 diciamo non non la settimana successiva prossima non ha un nuovo argomento no? Si continua sugli argomenti dei cicli completando alcun dettaglio tipo i cicli annidati ma concettualmente non c'è nulla di nuovo sono modi nuovi modi diversi un pochino più complicati di usare le cose che abbiamo già visto alla fine l'istruzione è sempre quella il ciclo vedremo che si scrive come for non solo come while ma è una piccola differenza sintattica quello che ci serve una settimana per poter fare un po' di esempi di varianti di esercizi per riuscire a diciamo così digerire un po' bene questo nuovo eh concetto di cicli io quindi vi ringrazierei chiudere la lezione qua eh ho ancora un paio di domande eh in sospeso ma eh appena chiudo la lezione su questi con questi vostri compagni diciamo così parliamo direttamente in chat e risolviamo queste domande. Arrivederci al laboratorio di giovedì e alle lezioni di lunedì prossimo. Ciao a tutti.